Sono contraria a una secondo tunnel autostradale sotto il Gottardo perché già adesso in Ticino abbiamo un'aria che è costantemente inquinata, supera sempre i valori diminuiti di inquinamento e un traffico troppo intenso a sud di Lugano non ci si muove sulle strade. Per i miei figli, per il loro futuro, per il nostro presente voglio aria più pulita e un ambiente vivibile. Il Ticino non resterà isolato nemmeno durante i lavori di risanamento del tunnel attuale, ci sono delle soluzioni alternative. In Austria il tunnel dell'Arlberg che collega il Foralberg con il Tirolo, è lungo 15,5 km, sta per essere risanato senza interruzione di traffico. La stessa soluzione, secondo gli esperti, potrebbe essere adottata anche per il Gottardo, quindi con dei lavori notturni e dei tempi di attesa di al massimo 30 minuti. Insomma abbiamo costruito la ferrovia più alta d'Europa, abbiamo la funicolare più ripida d'Europa, apriremo al transit. Non posso pensare che non siamo capaci di risanare un tunnel senza dover costruire un altro buco. Non fate che il Ticino diventi la camionale dell'Europa.